Ricominciare dal meno di zero, se mi permette solo fare il pezzo, e raccontarmi veramente non è un'idea di mincella, e la gente prova bene di sé, non vado a vivere un grande accello, farò sputare dietro un po' il veleno, e raccontarmi veramente lo spettacolo, e raccontarmi un grande melodio a tutti quelli con me.